Bentornati in questo nuovo vlog! Stiamo andando a sciare Massi Ozzy Niccolis Vai Ozzy Andiamo Prost! Prost! Il Zoulape Una pittura I ragazzi hanno abbandonato Io sono su questo bagaglio qui Benvenuta in questo vlog! Ma che bella maestra di sci che abbiamo! Siamo in quota che ci prendiamo di gin tonic La Marty che è la mia maestra di oggi Sta facendo la pagellina Un onesto... dai! Un sette livelli Un cinque race Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Il mio amico con questo kebab Bittin' pizza kebab Bittin' pizza kebab